Nozze d'incanto a Palazzo è il titolo dell'evento promosso da Incanto, Event & Winding Planner, con il patrocinio del Comune di Tolentino, in collaborazione con Tolentino Musei Civici e Meridiana, che si terrà domenica 8 maggio dalle ore 14.30 a Palazzo Parisani Bezzi, con ingresso gratuito ed aperto a tutti. In programma una conferenza sulle tradizioni del matrimonio, dal periodo napoleonico ai giorni nostri, e poi esibizioni, shooting fotografici, sfilate, presentazioni e dimostrazioni legate al mondo wedding e delle cerimonie in genere, infine piccole degustazioni di pasticceria e champagne. L'intento è quello di focalizzare l'attenzione sui eventi legati al mondo del wedding e delle cerimonie, fornendo ai futuri sposi, ma anche alle famiglie, ai parenti e agli amici, una variegata serie di proposte di qualità, con idee originali per organizzare al meglio il giorno del proprio matrimonio o qualsiasi altra ricorrenza o festa. Sarà anche l'occasione per conoscere approfonditamente la figura della wedding planner, come ha spiegato una delle tre organizzatrici. Sì, noi vorremmo far arrivare a tutti quanti il messaggio di quello che facciamo, cioè far capire a tutti in che cosa consiste il nostro lavoro, che è quello di organizzare al meglio il momento della cerimonia, naturalmente partendo con un bel periodo di anticipo, e mettendo a disposizione degli sposi tutte le professionalità più idonee affinché quel giorno diventi indimenticabile. Quindi a sostenerci domenica saranno naturalmente tutti i nostri collaboratori e ve li presentiamo, insomma.